Noi consideriamo quando abbiamo un paziente individuale in terapia, pensiamo anche alla sua famiglia, pensiamo che la terapia entri in un gioco familiare, entra in un gioco familiare e dobbiamo tenerne conto. Ad esempio quando hai momenti di crisi della relazione tra paziente e terapeuta noi prendiamo in considerazione la possibilità che questa crisi sia determinata non da te e dal paziente ma da chi sta fuori. Ti faccio un esempio, una paziente bulimica, un esempio che ho vissuto, una seduta arriva piena di cose da dirmi, aveva addirittura un quaderno piena di appunti, di cose da dirmi eccetera, la seduta dopo arriva sorridente, tutto va bene, non c'è argomento e l'idea è, forse stiamo chiudendo, è come se lei ti lanciasse il messaggio. A questo punto io chiedo, ma i suoi genitori come stanno vivendo la relazione terapeutica? Sono contenti, vogliono che lei prosegua, preferirebbero finisse? Una paziente ti viene a dire che il papà ha pronto una bottiglia di champagne da sturare quando lei smette la terapia e che le ha anche detto che hanno comprato la casa nuova eccetera eccetera e hanno difficoltà economiche, anche se sono persone economicamente molto ben messe, ma vogliono porre termine. Ad esempio, così accade anche nelle relazioni di coppia, quando hai un marito o una moglie, ad esempio, cambia improvvisamente in terapia, ma non in rapporto a te, in rapporto agli altri. Sì, è interessante. Tu credi che il fatto di collegare la relazione tra te e il paziente nel contesto delle altre relazioni familiari per alcuni possa sembrare un privare del fascino che ha solitamente anche la relazione one to one invece del setting terapeutico? Questa è una domanda intrigante, ma io penso che sia invece realistico e io penso che sia realistico e che questo i terapeuti sistemici ce l'hanno nel sangue perché hanno imparato. Le terapie familiari sono una cura meravigliosa dell'egocentrismo dei terapeuti, perché tu quando sei in terapia familiare ti accorgi benissimo, in modo chiaro, mentre quando sei individuale puoi non accorgerti, ti accorgi che sono ben più importanti i membri della famiglia di te.